ciao ragazzi oggi vi portiamo in palestra simone paduin vi ha fatto vedere l'hotel pepe lo spogliatoio e oggi siamo qui dove tiriamo sui pesi ecco pesi ma non solo perché comunque giochiamo a calcio quindi è importante le gambe tenerle sempre svegli infatti qui c'è una cyclette ci sono i tappi roulant per correre e veniamo spesso in palestra prima dell'allenamento per prepararci appunto agli sforzi che andremo a compiere in campo e solitamente trovate qui molto spesso martin caceres che mi piace molto sollevare pesi e diventare bello robusto questo è un attrezzo che utilizziamo spesso come riscaldamento dicevo prima di martin caceres che sempre in palestra invece che vediamo poco e simone pepe forse che preferisce più stare in campo comunque scherzare nello spogliatoio comunque un grande professionista con l'aspetto che curo di più in palestra forse gli addominali ecco perché per noi centrocampisti è fondamentale avere resistenza corsa quindi con l'aiuto dei nostri preparatori cerco di migliorare questo aspetto quello che mi piace di meno invece la forza un po per le gambe perché è molto molto faticosa con il nostro preparatore ulio uno che ci dà molto dentro e si fa si fa molta fatica oggi è stato un allenamento molto faticoso infatti il tapire roulant è spento lo lasciamo riposare ci vediamo sul campo un saluto a tutti forza juve un saluto a tutti